Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un gioco che si chiama Unepic. Si scrive Unepic, perché è meglio dirlo sempre, se no poi magari non si capisce bene il mio inglese. Allora, un gioco spettacolare. Allora, prima di andare avanti voglio dire una cosa, perché l'ho già detto nel video che ho fatto prima. Voi mi chiedete che cazzo di video? Non ho registrato un altro, solo che purtroppo oggi così, ma se usiamo la webcam, ecco. Purtroppo la webcam l'ho messo sopra i tasti, non me ne ero accorto, quindi rifaccio tutto il video, anche se dirò le stesse cose, non penso di dire cose diverse, anche perché il gioco è così, punto e basta. Voglio solo chiedere una cosa, questo gioco è un gioco RPG 2D, fatto da una casa indipendente, quindi è un gioco indie. Tutto quello che dirò non va in contrasto con altri giochi, nel senso che, se io dico che il gioco è spettacolare, non voglio dire che il gioco è più bello di altri, voglio solo dire che per essere un indie è fatto bene. Infatti, su questa cosa voglio sempre dirla, i giochi indipendenti sono giochi gratis, cioè gratis, scusate, minchia. I giochi indipendenti sono giochi fatti da case, cioè sono giochi fatti da, comunque, case, sì, di produzione, che non possono permettersi grandi macchinari. Ok, scusate, aia, mi hai? Ah, ah, ho tanta paura. Ma porco Giuda! Comunque, sono morto, nooo... Allora, ok, siamo qui. Vi dicevo, questo gioco è un gioco spettacolare, come dicevo prima, non prendetelo spettacolare alla lettera, nel senso che non voglio fare discussioni su cosa sia spettacolare o no. E porca puttana... Comunque, dicevo, è un gioco RPG 2D, cazzo mi sta facendo un male cane, indipendente, quindi un gioco indie, che si basa su una storia, su praticamente un gioco da tavolo, Dungeons & Dragons. Eh, praticamente, all'inizio della storia si vedono questi ragazzi, aia, questi ragazzi che giocano a Dungeons & Dragons, cioè da Dungeons & Dragons, un gioco da tavolo che sembra molto Dungeons & Dragons. Questo, praticamente, ci fa capire che parte da una storia di fantasia, ecco, di questo ragazzo che, praticamente, si spengono le luci della stanza mentre stanno giocando e si ritrova in questo mondo. E il gioco è particolarissimo, nel senso che... Non avevo mai visto un gioco in 2D fatto così bene, nel senso che... Scusate, ma qua mi devo impegnare... Nel senso che... Il 2D, sinceramente, non pensavo che si potesse fare un gioco in 2D così. E porco il Giuda. Perché, diciamo che sono sempre stato molto scettico sul 2D. Cioè, ho sempre detto, vabbè, il 3D, cioè, come fa a battere il 2D. Però effettivamente... Ma porca puttana Eva! Andiamo in giro tra altre parti. Dice, allora, prendiamo il discorso seriamente, perché sennò poi mi perdo mentre gioco. Allora, andiamo indietro così non so che già non c'è niente, cioè che c'è poco. Dicevo, questo gioco è particolare per il motivo... Per il semplice fatto che, essendo in 2D, essendo sviluppato da una casa indipendente e essendo, diciamo, un RPG, diciamo, tutto questo lo rende un gioco, secondo me, molto spettacolare. Perché, comunque ci fa capire che non serve il 3D, non servono, cioè, mega motori grafici, parliamo in italiano, mega motori grafici, no, per essere un gioco fatto bene. Poi, vabbè, ragazzi, gli amanti della grafica ci sono sempre. Io ho un amico che, se quello non ha la grafica al massimo, non gioca. Cioè, veramente, cose assurde, veramente. Io queste persone dico, veramente, ma che cazzo ci fai a giocare? Cioè, a sto punto... Cioè, guardati un film se vuoi la grafica al massimo. Cioè, guardati Avatar e sei a posto. Non giocare ai videogiochi. Però, vabbè, queste cose ci sono. E quindi, un ladro. E quindi, vabbè, sulla grafica questo... Cioè, non posso dire più di tanto. Sembra molto... Sembra molto... Come cazzo si chiama? Sembra molto... Terraria. Minchia, ma mi ha schiacciato una pietra. Ok. E vaffanculo, l'han caricolato preciso. Poi, cosa c'è da dire di altro? Cosa c'è da dire di altro su questo gioco? Ecco... Andiamo da un'altra parte, va, perché... Ho sto punto di stade che non ho mai trovato. Uh, qua c'è da accendere. Le cose molto particolari è che... È un RPG in piena regola. Cioè, è proprio un gioco di ruolo. Cioè, vabbè, gioco di ruolo, vabbè, non tanto. Perché, comunque, non è che scegli tu un ruolo. E... Sì, vabbè. Uh, qua, vedete, ho i punti da mettere. Cioè, lo sapevo già, no? Però ho un punto da mettere perché questi sono illuminati. Cinque punti a distribuire, anzi. Perché sono passato di livello. Eh, come vedete, è proprio... È il classico, no? Cioè, porto avanti alcune cose, altre lascio indietro. Ho più danno da una parte, ma più dall'altra. Devo usare certi tipi di oggetti. Se porto su, per esempio, pugnali, spadi, e solo la spada. Quindi, assolutamente, devo aumentare la spada. Anzi, due. Allora, una alla volta, ok. Ash. Costruzione. Non so cosa sia. Armatura, sì. Costruzione. Avevo pozioni. Ah, questi sono il livello. In base al livello che sono, posso portare al loro livello. Ok, ho capito. Bacchette archi, lance. Archi, sì, perché ce ne ho uno. Asce, mazze, mazze. Ok, perfetto. Qua abbiamo le quest. La stanza delle trappole, dove ero prima, con tutte le trappole. Quindi... Quindi un cazzo, vabbè, ce ne andrò poi io. Personaggio. E qua abbiamo l'inventario. Questi che le ampeggiano sono gli oggetti equipaggiati. Quindi, cioè, maglia, t-shirt e jeans, zippo, l'accendino e il... E la spada. Come vedete il gioco è tutto in italiano, tranne alcune cose. Per esempio questo, se vedete sotto la descrizione, cioè qua, dove sono col mouse. Se avete la descrizione c'è scritto, use it to light and turn put, put, put. Vabbè, è quello che è. Comunque, vabbè, usalo per fare luce e sti cazzi. Poi tutte le casse si possono rompere. Ci sono anche i forzieri, di cui possiamo trovare la roba. Dai, trovami qualcosa, cazzo. Ok, moneta. Perfetto. Ci sono trabocchetti pazzeschi. Ed è davvero difficile come gioco. Non è un gioco semplice. Sembra una cazzata, no? Perché uno dice, eh, vabbè, dai, è un gioco del cazzo. Però guardate che cazzo di mappa c'è. C'è già la madonna, c'è. E devo ammettere che tra l'altro continua anche per... Madonna, ma visto, ma visto, ma visto, ma visto. Ma che cazzo è quello? Un uomo con la faccia da lupo? Guardate, guarda, si muove. Che è figlio di... Puttana. Eh, tua sorella Troia. Ah, c'è un'altra stanza qua, non l'avevo vista. Andiamo. Allora, poi... Tua sorella, quella puttana... Ok, perfetto. Ecco, quando c'è il sangue lì, vuol dire che c'è qualche trappola. Ah, è con forziere. Che altro c'è da dire? Beh, non c'è moltissimo altro da dire. Minchia, a parte che questo c'è la sorella Troia. Eeeh, tua mamma puttana... Ehm... Che mi sto incazzando, il video prima l'ho fatto meglio, porca Eva. Ehm... Dicevo, è un gioco... È un gioco molto curato, nel senso che... C'ha moltissimi dettagli, per esempio le ragnatele qua. No? Ehm... Il fatto che comunque sia abbastanza tutto... Curato, no? Quindi... Per esempio, prima... Qua non mi è caduta la moneta, ma... Mi è caduta nel terzo, adesso invece qua mi è caduta la moneta. Quindi, beh, è tutto random. Ehm... Anche se, vabbè... Non è una cosa difficilissima, però... Su tanti giochi il random non c'è, non esiste neanche... Neanche se lo vuoi. Piccolo zaffiro. Qua andiamo sopra. Ma notate se è un figlio di puttana. Perfetto. Poi... Ehm... È un'avventura pazzesca, comunque, perché devo ammettere che... Che questo è un figlio di puttana. Muori! Sìììì! L'ho ucciso! Ok. Cavuta vita. Ok, quindi... È un gioco 2D. È un gioco indie. È un gioco spettacolo. E... E... Boh, non penso che ci sia altro da dire. Dove cazzo sono? Cioè, guardate qua, vedi? Le stanze che non si vedono da lì, poi appaiono qua. Cioè, questa è un'altra cosa che mi piace un casino. Ah, qua non avevo visto che c'era... Eh, porca puttana. Queste cose fanno male bestia. Dai... Mi si è spento il portatile. Ok, qua. Ah, finalmente se ne ho vattuto a questa parte. No! Ah, è proprio su questo dovevo cadere, eh. Sto verme di merda. Ah, non posso fare un cassio qua. Vabbè, niente. Andiamo indietro. Poi. Beh, sono già passati dieci minuti, quindi direi che posso anche concludere qua. Una torcia. Vedete che posso accendere le torce, poi quando si accendono tutte si illumina ancora di più. Solo che mi sembra che me ne manca qualcuna qua sotto. Sì, sto indicando con le mani. Sono proprio fuori, cazzo, oggi. Me ne manca qualcuna da qualche parte, non è giusto. Qua non c'è un cazzo. Lì non c'è un cazzo. Sto per morire? No, ok. Poi. Ah, qua c'è qualcosa, però. Che idiota del cazzo che sono. Dove cazzo che devo che andasse questa scala? Poi. Basta, non c'è più niente da dire. Spero vi sia piaciuto il gioco, anche se ho fatto un commento di merda. Come al solito, il secondo video viene sempre una merda. Perché il primo viene sempre sbagliato per qualche cazzo di motivo, che non so perché. Il secondo viene una schifezza. Non riesco a trovare la luce da accendere per farvi vedere questa cosa. Dove cazzo sei? Eccola qua, vediamo. Eccolo qui, vedete che non si lumina di più. No, forse l'ho notato l'altra volta così, magari ero io che l'ero fatto. Che cazzo ne so. Ogni tanto mi invento le cose. Credo di aver visto. Vedo la gente morta. Comunque, allora, qua riapriamo. Poi vabbè, questo lo faccio io. Ok, per questo video è tutto. Perché ho fatto così? Boh, vabbè. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Spero di... Spero che il gioco ci sia piaciuto. Eh, ok. Sono impappinato prima. Spero che il gioco vi sia piaciuto. A me sinceramente piace molto. Perché è uno stile molto particolare. Soprattutto perché è un indie fatto davvero bene. E quando un gioco è fatto bene bisogna dirlo, assolutamente. Invece quando un gioco è fatto da culo, bisogna dire il gioco è fatto da culo. Non c'è nel tratto da dire. Nel senso che il gioco è tutto da scoprire. E tocca a voi scoprirlo. Comunque, diciamo, per ricapitolare, È un gioco che praticamente, diciamo, questi due minuti faccio un riepilogo. È un gioco che parte da una storia di un gioco da tavolo come Dungeons & Dragons. Questo ragazzo si ritrova poi tutti al buio e parte, diciamo, la storia del gioco. Dove si ritrova in questo, diciamo, castello governato da... Non governato. Dove c'è praticamente un, tra virgolette, fantasma che ci impedirà di raggiungere, diciamo... Ecco questo, è quello lì, questo qua con la faccia nera, cioè la faccia che non ha faccia, tutto scuro e viola. Che praticamente il guardiano del castello ci impedisce di andare avanti. Vediamo se riesco. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo! E poi, il gioco, la grafica è veramente fatta bene. Per essere naturalmente un indie, non... Ragazzi, non paragoniamo i giochi. Adesso non lo sto dicendo che... Il gioco è spettacolare, paragonabile Battlefield, Call of Duty, Skyrim... Cioè, ok, sto dicendo che la grafica è bella per un gioco fatto così. Oh madonna, questi sembrano gli occhi di... Di... Di Terraria. Comunque ragazzi, prima di affrontare questo mostro, meglio che chiudo il video, se no dico cazzate e il video dura 20 minuti. Per questo vi è tutto, spero vi sia piaciuto, spero di aver letto tutto. Se ho sbagliato qualcosa, se qualcuno di voi conosce il gioco meglio di me, lo scriva nei commenti se ho sbagliato qualcosa. Non è un problema, raga. Sono umano, sbaglio anch'io. Se no, veramente sarei un genio. Anzi, più che un genio, perché anche i geni sbagliano. Comunque, madonna, ma che cazzo dico? Comunque, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!